Si è tolto la vita sparandosi con una pistola in strada in via del Circo Massimo a Roma. Il dramma nella giornata di ieri, giovedì 27 ottobre, la vittima è un uomo di 57 anni. Dalle prime informazioni trappelate si tratterebbe di una guardia giurata che si è uccisa con la pistola di servizio. Erano circa le 14.30 quando i passanti hanno udito un colpo di pistola. L'uomo si è accasciato a terra mentre diverse segnalazioni giungevano. Al 112 il personale salitario giunto sul posto ha cercato inutilmente di rianimarlo. Nell'area circostante si è radunata una folla di persone, presenti gli agenti della Polizia di Stato e del commissariato Ceglio, che hanno transennato la zona e svolto gli accertamenti del caso, ignota la causa che ha spinto l'uomo all'estremo gesto. Grazie! 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 Grazie!